La nostra idea è quella di una città migliore. Con il progetto Trani Out is Friendly vogliamo rendere questa città a misura di tutti. Abbiamo aderito per una città a misura di civiltà. Perché la mia differenza è la tua ricchezza. Perché tutti insieme si può. Abbiamo aderito perché siamo un'unica famiglia. Perché per noi insieme è meglio. Perché è importante venirsi incontro. Abbiamo aderito per garantire un libero accesso ad una vita normale. Per spazzare via i pregiudizi. Per crescere ed imparare insieme. Abbiamo aderito perché vorremmo una città per tutti. Perché i ragazzi speciali sono una risorsa. Abbiamo aderito per creare una rete accogliente e sicura di strutture e negozi in città. Per nutrire la città con un progetto ricco di valori. Abbiamo aderito per superare insieme le difficoltà. Per garantire la giusta accoglienza. Abbiamo aderito perché siamo cittadini uguali nel mondo. Perché tutti hanno diritto al divertimento. Perché crediamo fortemente in questo progetto. Perché tutti insieme si può. Perché bisogna conoscere per accoglierlo. Abbiamo aderito a questo progetto perché ci arricchisce i rendi. Visto in quanto ci credono, aspettiamo il che tempo. Visto in quanto ci credono. Grazie a tutti